Xandria è una canna da beach leisure in tre sezioni con due vette intercambiabili. Un attrezzo veramente reattivo che seppur offerto su una fascia di prezzo media dà veramente delle buone performance sia di lancio sia in pesca. Infatti il fusto si presenta in maniera molto fine. È un fusto conico con potenza di 100 grammi, anelli che sono del tipo sea guide con ponte in acciaio protetto contro la salsedine. Perciò dicevo ottime finiture, un fusto molto leggero, del tipo conico che va a finire su una vetta senza spina e assolutamente perfetta per la tecnica in questione. Xandria Beach si presenta molto piacevole e sono sicuro che se abbinata a mulinelli giusti e cioè con questo voglio dire non molto pesanti, la canna darà ottime prestazioni di lancio e in pesca veramente è una vera piuma. Al blank conico, come nelle altre canne della serie Trabucco MN, è stato messo un pomello bilanciatore con la base in gomma, un'ottima struttura ad impugnatura con shrink link, la placca è in graffite e come abbiamo visto poi è tutto coadiuvato da un'ottima anellatura che tra l'altro rende il fusto molto ma molto leggero. Vi faccio vedere la dotazione di vette dell'Axandria Beach. Ho la vetta rossa, diciamo la parte centrale colorata rossa, poi le scime sono tutte in bianco fosforescente che è anellata con tre anelli totali e qua leggiamo casting action, cioè praticamente è l'azione che serve quando alla canna si abbina lo shock leader, cioè quando ci serve di lanciare lungo. Perciò quando ci serve di andare un po' più fuori conviene sempre utilizzare questa vetta, questo tipo di vetta in abbinamento con lo shock leader. Qua abbiamo la vetta gialla, sempre con lo stesso tipo di fosforescenza sulla cima. Questa volta è una vetta molto più sensibile e perciò abbiamo inserito quattro anelli apicale compreso. Sulla vetta leggerete Fester action. Questa vetta la utilizzeremo tutte quelle volte che abbiamo da pescare a distanza ravvicinata, cioè senza l'uso dello shock leader. Con qualsiasi filo diretto dalla bobina questa vetta renderà sempre bene al massimo e farà vedere qualsiasi tipo di abboccata. Anche questo tipo di vetta non sarà mai passiva in fase di lancio, ma sempre ben attiva. Anche questo tipo di vetta è una notizia, ma sempre ben attiva. Grazie a tutti.